e salve a tutti amici del canale di arbi 82 partiamo con una nuova recensione quest'oggi amici miei ritorniamo a parlare di meat cloth tra virgolette precisamente ritorniamo a parlare di meat cloth legend l'unica l'altra uscita che bandai ha sfornato oltre a sagitta fece anche saga di gemini per la precisione uscì prima questo cavaliere qui e poi dopo successivamente il sagittario però io per chi ha visto i miei video ho fatto prima la recensione di micene di sagitte così per scelta e niente ragazzi vediamo un po a questa recensione la dedico al mio amico del canale meat cloth chronology giovanni maestrino che lui ama tantissimo questo film dei cavaliere lo zodiaco ma soprattutto ama tantissimo il design di questi cavaliere soprattutto questo di gemini ciao giovanni la dedico a te questa recensione e niente questo è il fantastico packaging perché ragazzi diciamo la verità le action figure di questi cavaliere qui sono sono molto belle cioè a parer mio sono davvero davvero fatto molto bene e questo è il packaging di saga di gemini eccolo qui primo piano l'action figure al suo interno qui me la vicino un po vediamo il faccione col riflesso si vede ecco qui il faccione di saga molto incazzato e minaccioso qui si intravede vedete qui gemini versione grande sacerdote arles come tutti noi lo conosciamo bandai qui c'è scritto saga di gemini ecco qui c'è anche il mio riflesso qui dietro c'è un po di pose fighe del nostro gemini qui che fa la galaxy explosion qui un'altra posa figa qui vediamo viso intercambiabile urlante con l'elmo aperto e sia l'elmo chiuso che era una caratteristica di questo film qui versione statica il nostro gemini qui è uguale questa è la facciata di prima non perdiamo tempo e apriamo questo pegaci e vediamo un po come si come si presenta al suo interno 1 2 3 confezione aperta amici miei ed ecco il nostro cavaliere come si presenta al suo interno vediamo che c'è il viso intercambiabile qui la mascherina dell'elmo l'elmo il cavaliere per intero e tre paia di mani intercambiabili e questo è il libretto illustrativo e adesso togliamo tutto dalla confezione ed eccomi ritornato in un semplice schiocco di dita alla Thanos e vediamo un po di cosa si tratta allora come prima cosa vediamo il la sua faccia intercambiabile eccola qui ragazzi guardate qui fantastico il suo viso urlante guardate poi la particolarità di questo viso che c'è un occhio di un colore un altro di un altro uno giallo e uno azzurro proprio per stare stare a indicare la sua doppia personalità poi guardate anche sotto agli occhi questa specie di occhiaia vedete qua per far capire che la sua parte malvagia a dominare eccolo qui questo è il suo viso poi vediamo le tre paia di mani intercambiabili questa diciamo con le dita piegate così una è una mano è nera e una è dorata proprio anche per la bellissima particolarità di questa armatura che mi piace un casino la doppia colorazione che ha eccolo qui qui ci sono i buchetti per le placchette delle mani che sono già inserite lì dove ci sono i pugni ecco qui fantastici vediamo una in particolare vediamo questo che si vede anche lo scalp delle unghie eccole qui andiamo più veloci questi sono le mani diciamo a palmo aperto eccole qui molto molto belle e ben fatta e queste a palmo spalancato eccole qui vedete ok poi gli altri due accessori vediamo la mascherina diciamo quando chiude vedete completamente il suo elmo ecco qui e poi il pezzo forte per me eccolo qui amici miei il mitico elmo di gemini speriamo che focalizzi perché ve lo voglio far vedere veramente ragazzi adesso andate qui che spettacolo eccolo qui ho sentito qualcuno di loro che a mezzica dicono che assomiglia alla testa del mazinga zeta o del grande mazinga dai per favore si la bolla forma c'è però raga dai qui vediamo la particolarità sulla parte dorata dell'armatura il viso incazzato quello cattivo e sulla parte nera c'è il viso tranquillo mi piace sta particolarità perché il nero sta ad indicare la parte malvagia però c'è il viso buono sulla parte dorata che è la parte buona sta il viso questo qui più arrabbiato e poi c'è questo in tarso verde qui al centro vedete che taglia il tutto ma non perdiamo altro tempo e focalizziamoci su questo cattivone avvicino piano piano così ragazzi faccio fare una girellata ragazzi guardate che magnificenza che questo cavaliere io non capisco perché questa serie di bit non è andata avanti ragazzi è proprio veramente un peccato l'ho detto pure nell'altra recensione di sagitte veramente un peccato anche se il film non è stato questo granché però c'è i mit i cavalieri per me le armature erano bellissime e sono bellissime purtroppo non sono andate a buon fine queste figure che peccato veramente perché veramente mi sarebbe piaciuto averle tutte 12 cavali d'oro più i bronzi che erano pure fantastici secondo me le armature eh sì adesso fermiamolo qui è il nostro saga e ve lo faccio vedere un po' più da vicino ragazzi è pesantissimo che ve lo sto dire a fa ed eccolo qui guardate ragazzi guardate qui che spettacolo occhio azzurro occhio giallo guardate questo viso la bandai ha fatto veramente un grande lavorone poi guardate tutti i dettagli di questa fantastica armatura dal doppio colore guardate qui ma la cosa incredibile che mi piace è questa parte qui centrale guardate qui guardate qui questa enorme pietra verde che c'è sul petto che raffigura il simbolo dei gemelli guardate qui stessa cosa il sagittario che aveva il centauro ragazzi fantastico poi questi intarsi verdi nell'armatura per esempio qui se focalizza qui vedete pure qui che c'è verde metallizzato questi intarsi qui di bronzo colore oro rosso diciamo vedete vedete guardate qui questa pietra qui pure sopra lo schi nero sotto la ginocchiera guardate qui questi intarsi di oro rosso che tagliano il colore nero del bracciale destro questo giallo qui sullo spallaccio destro guardate qui è veramente una bomba questa armatura è stata super criticata proprio per il suo doppio colore però boh vabbè guardate qui la parte dorata qui il mantello che è fatto in quattro parti vedete è in plastica proprio come i mit ex guardate qui veramente bello 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 poi ragazzi guardate pure lo scalp dei capelli che sono grigio scuro queste sporcature di più grigio chiaro guardate qui che fantastico veramente meraviglioso ragazzi io non trovo nessuna nessun difetto in questi mit l'unica cosa che non sono trasformabili ragazzi cioè non l'armatura non si toglie dal personaggio non si può fare il totem però chi se ne frega ragazzi sinceramente parlando chi se ne frega e niente adesso ve lo mostro in un secondo con il suo elmo così vediamo un po' come come sta con l'elmo 1 2 3 eccomi qui cari amici del canale di orb 82 viso cambiato eccolo qui ragazzi guardate qui ho cercato un po' di metterlo in una posa un po' più figa più d'azione eccolo qui adesso ve lo faccio vedere più da vicino eccolo qui con l'elmo e con il viso da pazzo incazzato guardare qui fantastico amici miei veramente veramente potentissimo il nostro saga di gemini e adesso vediamo con la mascherina con l'elmo completamente chiuso 3 2 1 eccolo qui con l'elmo completamente chiuso amici miei ve lo faccio vedere eccolo qui eccolo qui questa era proprio una novità una caratteristica di questo nuovo film dedicato ai mitici cavali dello zodiaco eccolo qui fantastico ed eccolo qua ecco eccomi qui amici miei adesso io ho aggiunto il viso normale con l'elmo e guardate qui ragazzi che magari che ve lo so dire a fare veramente fantastico non c'è proprio niente da dire e lo ripeto la bandai aveva fatto un lavorone su questi mit clot legend eccolo qui vi faccio fare un'altra ripassatina per la vostra gioia eccolo qui e guardate vi sono dimenticato di dirvi anche guardate il dettaglio del del vestito sotto l'ammatura tipo squamosa proprio come come era quello lì di micene di sagitte eccolo qui è un gioiellino ragazzi è veramente un gioiellino adesso passiamo allo step finale 3 2 1 step finale amici miei è guardate qui cioè io sono senza parole questi due mit vicini sono cioè una cosa magnifica stupenda ho completato la collezione dei legend mettiamoci anche l'elmetto qui di saga eh ragazzi cioè io consiglio vivamente questi due mit per chi ama i cavalieri dello zodiaco perché anche se è una collezione incompleta però ragazzi e anche se non sono uguali ai agli originali che tutti noi amiamo però ragazzi io vi consiglio vi consiglio vivamente perché sono veramente uno spettacolo veramente uno spettacolo sarò ripetitivo ma sono fantastici ragazzi sono giunto alla fine di questa video recensione e come al solito ringrazio i miei nuovi iscritti grazie mille vi invito a iscrivervi al canale di arbi 82 arbi 82 cioè il mio grazie molto gentile e cliccate cliccate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che farò scrivete un commento fatemi vedere cosa ne pensate amici miei e niente un saluto a giovanni già giovanni questa recensione la dedico a te iscrivetevi anche al suo canale mi raccomando che è il canale italiano migliore che dedica recensioni dei mitcloth ma sicuramente lo conoscete non ha bisogno di presentazioni e niente ragazzi un saluto da arbi 82 e da questi fantastici cavalieri vicene di saggiter aiolos il saga di germany arrivederci